Cosa fare dopo un aborto? Questo video nasce dopo la richiesta di un'amica che ha commentato sotto un video che ho fatto parlando delle conseguenze in una decisione del genere quindi mostrando quelle che sono le dinamiche e le leggi dell'universo e quest'amica scrive Mortifichi la donna, sei un insensibile Credi che non soffrano già abbastanza? Dove sei tu quando per vari motivi la donna è costretta a arrivare a fare un passo così straziante? Facile parlare dalla tua posizione? E' meglio dare un consiglio alla donna per aiutarla a superare il fatto compiuto Non credi? Quindi eccomi qui a pubblicare un video e dare dei suggerimenti con dei rimedi pratici, ancestrali che sono stati dimenticati dalla maggior parte delle persone utili per tutte quelle persone, quelle donne che hanno e si sono trovati in questa situazione Il video che feci un po' di tempo fa dove mostravo le conseguenze di determinate scelte era stato fatto per aiutare in primis una amica che si trovava in questa posizione stava decidendo se interrompere la vita dentro di lei oppure no e quindi feci una serie di video per mostrare le dinamiche, le leggi dell'universo in azione a lungo termine e il commento di questa amica che dice mortifichi la donna che si sente risentita e che parla di dolore perché parla di fuoco sopra la sofferenza quindi quel video che feci semplicemente mostrando le dinamiche è la prova di quello che dicevo in quel video nel senso che spesso si sottovalutano le decisioni nel breve termine perché non si vedono le conseguenze a lungo termine e le conseguenze sono proprio queste perché la lingua batte dove il dente duole quindi questa amica ha visto riflesso dentro quel video un dolore che è dentro di sé perché ti spiego una cosa se qualcuno ti dice che non sei intelligente ma tu non hai questa autoattribuzione negativa nei tuoi confronti quella cosa lì per te passa inosservata non ti tocca il pensiero altrui non ti tocca mai fino a quando non va a toccare qualche corda dentro di te quindi se c'è un video una parola qualcosa di qualcuno che suscita dentro di te delle emozioni di dolore di rabbia di frustrazione dovresti farti delle domande perché evidentemente c'è un nodo non risolto dentro di te quindi in ogni caso tutte le volte che entri in una posizione scomoda con qualcuno intanto ringrazia quella persona perché ma non è il mio caso non è il caso del video è una questione generale ringrazia quella persona che magari ti sta facendo riemergere un sentimento che magari volevi tenere soppresso perché le persone di fronte a te semplicemente ti fanno da specchio perché se a Valentino Rossi dicono che non è capace di guidare la moto e glielo dice uno che va in moto così in mezzo alla strada beh il pensiero di quella persona sicuramente non tocca a Valentino Rossi perché è un fenomeno a guidare la moto ok se invece Valentino avesse dei dubbi sulle proprie capacità di guidare la moto allora il pensiero di quella di quella persona di quello sconosciuto scatenerebbe dentro il buon Valentino delle questioni irrisolte che lui ha dentro di sé quindi il commento di questa nostra amica mostra infatti poi chiede aiuto e dici puoi dare un consiglio alla donna per aiutarla a superare il fatto compiuto quindi tutto questo preambulo è per mostrarti le dinamiche che ci sono mentali perché spesso si attribuiscono agli altri i problemi della propria sofferenza quando in realtà sono questioni irrisolte tue e uno il primo passo è perdonati perdonati è un dono la parola lo dice perdono è un dono ti devi perdonare perdonare non significa ah ok ho fatto qualche cosa che oggi con la consapevolezza di oggi reputo che non vada bene perdono e domani lo rifaccio no non è così ok perdono e acquisisco la consapevolezza aumento la mia consapevolezza mi rendo conto che sono un essere umano e come tale si cade si sbaglia Gesù diceva che è senza peccato tiri la prima pietra se sei senza peccato tira la prima pietra ok ogni volta che si fa azione è insita dentro l'azione l'imperfezione dell'azione l'azione non può mai essere perfetta e questo lo devi accettare quindi perdonati all'epoca hai fatto ciò che hai fatto con la consapevolezza che avevi allora allora pensavi che quella fosse la scelta migliore per una n serie di motivi se no avresti preso un'altra decisione avresti preso un altro cammino quindi il primo passo è perdonati devi lasciare andare fai lo pono pono perdonati chiedi perdono a quell'anima che è venuta dentro il tuo ventre perdonati e chiedi perdono lo siento perdono grazie a ste amo mi dispiace perdonami grazie ti amo mi dispiace perdonami grazie ti amo mi dispiace perdonami grazie ti amo e continui e continui mi dispiace mi dispiace se ti ho ferito perdonami non era mia intenzione ferirti grazie 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 poniti in quella condizione dove la questione è risolta ti amo e entri nell'amore incondizionato il video che feci è stato fatto perché durante le cerimonie di The Answer le cerimonie della risposta dove aiuto le persone ad entrare dentro vedo le conseguenze di determinate azioni e vedo la sofferenza perché emerge ed è forte quindi per evitare un certo tipo di sofferenza è utile condividere determinate informazioni che sono nascoste e che non vengono condivise vedi l'Italia è soggiogata dal dal peccato ma non è così il peccato serve a creare quel senso di manipolazione Gesù è morto sulla croce per te creare quel senso di colpa e l'Italia è pervasa molto da questa cosa in questo momento mi trovo in India in India si parla di karma si parla di azione dove ogni azione ha una reazione ma non c'è il giudizio a cui siamo abituati in Italia bene male no ci sono azioni diverse che portano risultati diversi ed è straordinario questo punto di vista che che mostrano gli indiani e le antiche scritture è bello è molto utile è efficace quindi credo che che quando sei a contatto con un certo tipo di informazioni in qualità di essere umano è giusto condividere quell'esperienza anche con gli altri poi se gli altri la vorranno prendere bene se non la vorranno prendere non la prenderanno ma va bene se io scopro che la pianta di aloe vera è utile per aiutare le persone che hanno problematiche a livello di pelle è giusto come essere umano condividere questa informazione poi le persone decideranno per loro stesse che cosa vogliono fare magari prenderanno l'aloe magari no va bene lo stesso vale per il video dove mostri le dinamiche di determinate scelte quando decidi di compiere determinate scelte in qualità di donna e decidi di abortire vedendo che cosa succede nel mondo invisibile è giusto come essere umano mostrare le conseguenze di determinate azioni perché a volte le persone non lo sanno poi ognuno decide per sé che cosa fare quindi questa è la prima cosa perdonati e perdona e chiedi perdono perdona le persone intorno a te che magari ti hanno influenzato ad andare in una determinata direzione perdona anche loro dopodiché cerca un fiume cerca un fiume e immergiti in quel fiume o se ci sono delle acque sacre tipo il fiume del Gange se tu potessi farlo nel Gange sarebbe straordinario oppure l'Urd delle acque che hanno questa vibrazione poderosa di sanazione e in ogni caso se non sei nelle vicinanze ma adoperati affinché questo possa succedere cerca di entrare in un fiume sacro in un'acqua sacra e in ogni caso entra in un fiume e ti immergi perché il fiume ha questo potere l'acqua ha questo potere sciogliere e pulire da queste pesantezze che ristagnano dentro il tuo corpo il fiume lava si dice che il Gange il Gange il Gange porti via migliaia di anni di karma è questo il senso il fiume pulisce quest'acqua che scorre e mettiti col ventre nella direzione dell'acqua che ti arriva addosso e fatti ripulire e entra con questa intenzione e porti e porta un'offerta a quell'acqua porta un'offerta a quell'acqua magari può essere l'acqua stessa vai nel Gange prendi l'acqua del Gange e la offri nuovamente al Gange in questa grande consapevolezza che tutto ciò che hai è tuo ma in prestito e lo restituisci e chiedi aiuto al Gange a Mama Ganga chiedi aiuto alla mamma e ti fai ripulire e ti fai ripulire e liberi ti liberi da queste emozioni un altro rituale importante sono i bagni di fiori o i vapori di fiori sono rituali che facciamo in Sud America e sono molto utili non solo in questo caso ma per le donne in genere che devono liberarsi da una serie di menzogne che sono state diffuse nel mondo per quanto riguarda la donna quindi la donna vive questo senso di sporco perché le è stato insegnato così perché perché la Madonna è vergine Maria è vergine ha concepito Gesù ed è vergine e visto che Maria è la donna per antonomasia tu che hai avuto un figlio sei immonda perché non l'hai avuto da vergine ok quindi c'è tutto questo retaggio pazzesco quindi estremamente utile per tutte quelle persone che hanno avuto delle difficoltà di diverso tipo abusi che hanno avuto relazioni promiscue che hanno vissuto l'aborto quindi i fumi e i bagni di fiori sono estremamente utili per risanare la parte intima della donna c'è tutta una procedura non entro nel tema della procedura però se indaghi troverai oppure puoi venire se hai voglia in Perù un altro rituale estremamente potente anche questo viene fatto in maniera seguita in Perù oppure puoi informarti altrove è prendere le uova sono delle uova di pietre particolari e c'è tutto un rituale dove la donna si inserisce nella parte intima questa pietra che deve avere determinate caratteristiche affinché l'energia che ristagna dentro la parte sessuale femminile si possa entrare la parte negativa le emozioni ristagnanti entrano dentro la pietra dopodiché rilasci la pietra e la sotterri o la doni a madre natura sotto diverse forme un altro rituale molto importante quindi anche in questo caso con gli Ioni Egg puoi informarti o se hai piacere vieni in Perù altra cosa partecipa alle cerimonie di The Answer e partecipa ai seminari di The Code i seminari di The Answer ti permettono di entrare in connessione profonda con te stessa e sanarti in una maniera molto più rapida rispetto a dante altre dinamiche perché 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 al di là del video di Luca o di chi che sia che ti dà delle risposte le risposte più importanti sono quelle che ti darai tu la questione è che ti devi trovare e devi entrare in connessione con te stesso con te stessa e quelle risposte le ottieni attraverso dei processi quel processo avviene durante le cerimonie di The Answer ci sono tanti altri processi quello che condividiamo noi è all'interno dei percorsi di The Answer o i seminari di The Code del codice altro rimedio estremamente efficace è quello di ballare musica sacra e rilasciare quando balli devi rilasciare devi ballare in maniera estremamente energica e rilasciare tutte le emozioni stagnanti dentro il tuo corpo devi buttarle fuori devi buttarle fuori devi buttarle fuori devi buttarle fuori un'altra un'altra pratica estremamente efficace è gridare fuori il dolore che senti per fare questo tipo di procedura questo tipo di pratica questa sorta di meditazione è bene che tu la facci in un luogo isolato perché magari vuoi gridare vuoi tirare fuori tutto quello che hai dentro la sofferenza la rabbia il rancore vuoi tirarli fuori e devi tirarli fuori non lasciarli dentro devi tirarli fuori tirali fuori tirali fuori tirali fuori tira fuori tutta questa roba qua tirala fuori e vai in un luogo e grida grida fuori tutto il dolore che hai dentro quando sei esausta ti siedi sotto un albero e mediti e ripeti questo processo lo ripeti lo ripeti lo ripeti lo ripeti lo ripeti un'altra pratica estremamente efficace è fare una panciacarma un rituale di depurazione vedico quindi puoi fare una panciacarma e ripulirti da un punto di vista fisico perché ancora una volta quello che accade è che le emozioni ristagnano dentro il corpo creano delle tossine quella roba lì poi ti fa male la devi tirare fuori ormai il dado è tratto ok occorre fare qualche cosa per risanarsi perché la vita va avanti quindi panciacarma è un altro rimedio estremamente efficace e un altro rimedio estremamente efficace è una dieta di mappaccio anche questa la puoi venire in Perù e fare una dieta di mappaccio per ripulirti da un punto di vista fisico estremamente utile estremamente importante e un'altra considerazione è fa sì che la tua sofferenza non sia invano con la tua consapevolezza adesso aiuta il prossimo aiuta gli altri inizia ad uscire da te dalla tua sofferenza e fa sì che questa sofferenza diventi consapevolezza e che questa morte non sia avvenuta invano fa sì che possa essere di aiuto a mille altre anime cerca di aiutare altri ad entrare nella consapevolezza di questo gesto aumenta la consapevolezza negli altri diffondi questo non significa che dovrai convincere gli altri semplicemente diffondi 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 ciò che tu hai imparato ciò che hai appreso affinché le persone intorno a te possano sentirsi meglio e affinché questa morte non sia avvenuta invano a Grazie.